Bentornati su Nomomammazzo, parliamo di Jumanji The Next Level. Chi è Jumanji? Molti di voi sapranno che io adoro Karen Gillian in tutte le salse, l'adoro persino quando è vestita da aliena blu e quindi... non potevo che andare a vedere il film. So che probabilmente non è un film di alto livello culturale, è un film molto tamarro, un film che addirittura alcuni non amano perché hanno sporcato il ricordo del Jumanji del 95 con Robin Williams. Ma facciamo un piccolo recap di questa fantastica saga. Allora, Jumanji The Next Level, film del 2019, è il sequel di Jumanji Welcome to the Jungle del 2017, che tra l'altro trovate su Netflix in questo periodo, quindi potete anche andarvelo a rivedere. Sequel a sua volta di Jumanji del 1995 con protagonista Robin Williams, che a sua volta si ispira a un romanzo per ragazzi americano, non famoso come altri romanzi che sono arrivati oltreoceano, però è comunque tratto da un romanzo, un romanzo semplice, nulla di troppo arzigogolato, non immaginatevi il Signore degli Anelli. Da questo romanzo hanno tratto questa saga di Jumanji. Cos'è Jumanji? Chi è Jumanji? Sia nel romanzo che in tutti questi film, Jumanji è un gioco, un gioco che ha una particolarità, la particolarità di rapirti finché tu non finisci il gioco, ma non come succede adesso quando noi ci intrippiamo troppo in un videogame o in qualche fumetto, in qualche gioco da tavolo, no, no, ti rapisce in senso letterale, nel senso che tu non te ne puoi andare, tu finché non finisci questo stranissimo gioco dell'oca, perché il gioco è abbastanza semplice, tu non sei fuori dal gioco. E questo ha molteplici significati. Nel film del 1995 sappiamo che questo gioco in scatola, in base anche a dove finisci sulle varie caselle, ti può addirittura rapire e portarti nella giungla di Jumanji, ma noi questo lo vediamo poco, vediamo semplicemente un ragazzo che è stato talmente tanti anni all'interno di questa giungla di Jumanji da essere diventato adulto e torna nella nostra realtà quando altri ragazzi rispolverano questo gioco in scatola e tutti devono finire questa partita. Quindi noi sappiamo che di là c'è una giungla, ma non la vediamo, vediamo la giungla che viene portata da noi, portata da noi con frotte di elefanti, di rinoceronti, di ippopotami, di chi più ne ha più ne metta, che vengono nel nostro mondo e causano non pochi problemi, anche a livello strutturale rischiano di far crollare case, edifici, rischiano di travolgere questi ragazzi e quindi da questo gioco pericolosissimo bisogna uscirne vivi. L'unica pecca appunto che anche voi per i mezzi magari del 95, non lo so, non si è mai vista la giungla in prima persona, cosa che invece viene, passatemi il termine, risolta nel film del 2017 appunto Jumanji Welcome to the Jungle, dove questi nostri protagonisti vengono tutti aspirati dal gioco e portati nella giungla di Jumanji. Qual è però la differenza? Cosa è successo tra il 95 e il 2017? Che appunto i ragazzi di oggi possono trovare più attrazione in un videogioco che non in un gioco da tavola, oltre al fatto che gli stessi spettatori che guardano un film nel 2017 possono essere più, diciamo, coinvolti nelle storie se si parla di un videogioco e di avatar videoludici piuttosto che di un gioco da tavolo. Così Jumanji, che è un gioco senziente, si adatta per poter attirare i giocatori a sé. Si adatta proprio nel senso che in una notte tempestosa si trasforma da gioco da tavolo a console videogame. Questa console videogame viene scoperta anche in Jumanji Welcome to the Jungle, che è il film del 2017, viene scoperta da un ragazzo che viene rapito nella giungla di Jumanji e poi viene abbandonato lì e viene riscoperto da altri ragazzi, da quattro liceali nel 2017, che però, a differenza del film del 95, vengono anch'essi rapiti tutti e quattro in questa giungla, che noi finalmente con i nostri occhi vediamo. Qual è la novità? La novità del 2017 è che essendo un videogioco non sono i quattro ragazzi in prima persona a essere catapultati dentro, ma ci sono quattro avatar. Gli avatar sono fondamentalmente già nominata. Karen Gillian, che interpreta l'avatar di Ruby Roundhouse, una sorta di Lara Croft rossa di cappelli super gnocca, non che Lara Croft non lo sia. Poi abbiamo The Rock, che interpreta il dottor Bravestone, poi abbiamo Jack Black, che interpreta il professor Sheldon Hoberon, infine abbiamo Kevin Hart, che interpreta Franklin Finbar. Ognuno ha delle particolarità, delle particolari abilità e delle particolari debolezze. La cosa carina del primo film è che ognuno si becca un avatar abbastanza corrispondente quantomeno al proprio sesso, tranne Jack Black, che viene giocato da questa ragazzina, la classica cheerleader bionda popolare che snobba l'altra protagonista, la rossina timidina, che invece è, diciamo, l'oggetto del desiderio del protagonista assoluto, che è Spencer. Spencer è il classico nerd, magrolino, con l'asma, classico stereotipo, che non riesce a confidare il suo amore alla sua amica del cuore, dai capelli rossi, anche la molto timidina, e si ritrova nel corpo di The Rock, del dottor Bravestone. La ragazzina, rossina, timidina, si ritrova nel corpo di questa avventuriera dalle fattezze di Karen Gillian. L'amico super sportivo di Spencer si ritrova nel corpo, sì, atletico e sportivo, ma molto piccolino di Kevin Hart, al contrario di The Rock, che è una bestia. Quindi c'è anche questo controaltare. E infine la cheerleader, appunto, si ritrova nel corpo di Jack Black. Questo gli aiuta, appunto, a diventare amici, cosa che prima non erano, erano semplicemente compagni di scuola. E questo, grosso modo, è il film del 2017, che non ha, magari, la profondità metaforica del rapporto padre-figlio che c'era nel film del 95, però è comunque un film godibile che ha rinfrescato la saga di Jumanji. Ma nel film del 2019 c'è il vero salto di qualità che è l'introduzione di due personaggi. Questi due personaggi sono Danny DeVito e Danny Glover. Se non conoscete questi due attori, Danny DeVito è quello che ha interpretato i gemelli con Arnold Schwarzenegger, è quello che ha interpretato il pinguino di Batman, di Tim Burton, nel 1992. Mentre Danny Glover è famoso per Arma Letale. Questi due personaggi sono rispettivamente il nonno di Spencer e un amico, nonché ex collega, ex socio di Danny DeVito. I due non si parlano da anni perché appunto c'è stata la chiusura di un ristorante scelta solamente da Milo, l'ex socio, del nonno di Spencer che si chiama Eddie e Eddie, che è il classico uomo che vive solo per il lavoro, ci è rimasto male perché è stato mandato in pensione dal suo ex amico senza il suo volere. Questa storia che si è chiusa nel silenzio da più di 15 anni verrà proprio risolta in Jumanji ed è qua che c'è un po' più di approfondimento, un po' più di buoni sentimenti che c'erano anche nel film del 95, buoni sentimenti che hanno un ulteriore approfondimento che però non vi voglio svelare perché dovete andare al cinema e vedervelo, non voglio raccontarvi proprio tutto tutto. Tutto questo magistralmente incorniciato dal fatto che gli avatar non sono stati scelti da nessuno ma sono stati dati a caso. Quindi vediamo anche la performance, le performance di attori di The Rock, di Kevin Hart, di Jack Black principalmente, per un pochino anche di Karen Gillian che interpretano più di un ruolo, quindi con lo stesso volto interpretano diverse personalità. The Rock interpreta per Metafilm il nonno di Spencer, quindi un signore anziano che non ha capito assolutamente di trovarsi in un videogioco. Chi è Jumanji? Vediamo appunto Kevin Hart interpretare Milo, Milo, quindi per la maggior parte del film ha un atteggiamento diverso dal personaggio che ha interpretato Jumanji Welcome to the Jungle ed è stato molto bello vedere gli stessi gli stessi avatar fondamentalmente gli stessi attori con gli stessi vestiti del film scorso interpretare ruoli totalmente diversi. Quindi vediamo la risoluzione del conflitto tra Eddie e Milo interpretato da The Rock e Kevin Hart e poi a un certo punto succede qualcosa che gli avatar si cambiano di nuovo e vediamo The Rock che interpreta di nuovo il buon Spencer e Kevin Hart che interpreta interpreta di nuovo Fridge che è l'amico di Spencer e Jack Black che interpreta prima Fridge e poi interpreta di nuovo Bethany se non sbaglio scusate ma sono davvero tanti nomi tanti avatar tra i tanti attori quindi già io di solito con i nomi faccio confusione spero di aver alzato un attimino l'asticella della memoria nel video di oggi è stato quindi molto bello vedere appunto attori interpretare diversi personaggi è stata quasi una prova che si può vedere solitamente in teatro non in un film questo mi è piaciuto molto vi consiglio proprio di andarlo a vedere mi è piaciuto molto più del primo chiaramente dovete aver visto un po' almeno il primo film almeno il film scorso almeno Welcome to the Jungle non dico che dovete vedere quello del 95 anche se ve lo consiglio ma se diciamo avete fretta guardatevi almeno Welcome to the Jungle e poi andate a vedere The Next Level c'è un finale davvero di cuore soprattutto appunto per i personaggi anziani i personaggi giovani non hanno una chissà quale crescita di storyline rispetto al primo film anzi è quasi messa da parte rispetto appunto alla storyline dei due personaggi anziani ma chi se ne frega fondamentalmente è molto bello vedere l'interazione di questi personaggi anziani con questi giovani diciamo è anche bello diciamo l'allegoria che si fa con gli anziani che ci sono nella vita reale ovvero col fatto che non sono assolutamente informatizzati che quindi devono essere istruiti dai nipoti svogliatissimi di istruire i nonni a queste nuove tecnologie trasportate in questo magico mondo di Jumanji quindi è stato bello per più motivi un film che vi consiglio di andare a vedere con i vostri nonni con i vostri genitori o se siete genitori portate i bambini se siete dei boomer che non sanno niente di tecnologia avete dei figli che vi insegnano a utilizzare il telefonino e il film che fa per voi bene con questo è tutto io sono contento di aver detto la mia su Jumanji che è già uscito dall'anno scorso dal Natale scorso quindi avrete già visto altre recensioni vi ho comunque voluto dire le sensazioni che ha dato anche a me noi ci vediamo nel prossimo video se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche perché non vi assicuro una grandissima regolarità di uscita nei prossimi tempi di mettere un bel mi piace al video di commentare con le sensazioni che vi ha dato questo film e di condividere il video con tutte le persone che amano Jumanji io come sempre con l'inchino con l'imbuto vi saluto e prima di lasciarvi ho un'ultima domanda chi è Jumanji che è